Pochi partecipanti presso i cosiddetti stati generali delle associazioni, a sostegno del tifo leccese, riuniti ieri sera presso il Cinema dell'Antoniano. Si pensava ad una maggiore affluenza, viceversa non si è registrato una partecipazione significativa. Intanto, in programma il 24 luglio prossimo, una partita al Via del Mare in ricordo della prima storica promozione del Lecce in Serie A a 30 anni dalla stessa. E il primo passo di rinascita giallorossa, progetto già presentato alla città da Corrado Iurlano. L'iniziativa, che traghetterà i contenuti nella Fondazione Franco Iurlano, nome che brucia ancora oggi nei cuori di tifosi leccesi, nasce con l'intenzione di creare le condizioni per la sopravvivenza del calcio a Lecce in un momento storico di alta incertezza. Un team di professionisti per dare un futuro al club giallorosso e garantire una squadra di calcio alla città, anche diversa dall'uslecce se Savino Tesoro decidesse di restare al comando del club. 100.000 euro di patrimonio ed il tempo necessario per ottenere le autorizzazioni regionali e sportive e riunire tutti i sostenitori finanziari in grado di garantire la tenuta sportiva sociale e storica del Lecce. Il team di rinascita giallorossa fa sul serio.